Alessandro Sibilio, protagonista alla Diamond League di Stoccolma, protagonista ai giochi europei per nazioni in Polonia che ha vinto sui 400 ostacoli, la stagione che porta al Mondiale a fine agosto riparte dallo Stadio Maradona. Sì, sono tornato lunedì dopo due settimane impegnative, dopo una grande vittoria in Coppa Europa per nazioni con l'Italia, sia individuale che di squadra e poi una buona gara a Stoccolma un po' influenzata da forze esterne, però ripartiamo da qui per arrivare a metà agosto ai Mondiali di Budapest. Tu sei un ostacolista, sei abituato a superare gli ostacoli, su Instagram hai fatto una denuncia che la pista del Maradona non è al meglio, ha delle problematiche, ma al di là di questo è un po' tutta la tua condizione che crea delle problematiche, degli stress in stagioni importanti. Sì, purtroppo noi abbiamo aspettato tanto per avere una pista di atletica nuova, il Maradona che prima si chiamava San Paolo era una pista inagibile e con i soldi universiati finalmente è diventata una pista molto prestativa e ottima. Purtroppo stiamo sprecando questo bene che abbiamo costruito, come solo noi sappiamo fare e anche perché ci sono tanti atleti, oltre che me, che io ormai sono un atleta di livello internazionale e quindi riesco anche a trovare una seconda via quando ci sono questi problemi. Invece ci sono tanti ragazzi che come noi vogliono fare gli atleti e in queste condizioni rischiano di farsi male o addirittura di non riuscire a fare atleti. Con il Comune c'è comunque un'interlocuzione che va avanti, quindi positiva anche per il futuro, ma che cosa si chiede affinché crescano sempre di più atleti di grande livello a Napoli? Si chiede normalità perché noi atleti non chiediamo niente di grande, chiediamo una pista su cui allenarci e degli orari giusti per poter fare quello che amiamo. Purtroppo a volte il Virgiliano viene chiuso per allerte meteo, il San Paolo ovviamente è il Maratona e dove gioca il Napoli a volte è chiuso e il Collana adesso è in ballo ad un problema, quindi a volte non sappiamo neanche dove allenarci, quindi speriamo che qualcuno risolvi questa situazione.